Cioè tra un anno la cartina... Non manca un pizzico di ironia dalla Presidente Saracchiani sull'ipotesi che il bellunese entri a far parte del Friuli Venezia Giulia e le sue mani già disegnano la nuova parte della regione sulla cartina geografica. Scherzi a parte, dopo la definizione di farsa da parte del Presidente del Veneto Luca Zaia sull'ipotesi che il bellunese passi tutto al Friuli Venezia Giulia, oggi la Saracchiani replica così. Io credo invece che sia estremamente seria questa richiesta e credo anche che abbia assolutamente un valore del quale non possiamo far finta di nulla. È un valore storico, culturale, è una comunità di intenti che abbiamo fra le nostre due regioni, fra le nostre due comunità e come ho avuto modo di dire anche ieri e io credo che si debba rispettare la volontà popolare sia dei Sappadini sia di tutti quei comuni che hanno chiesto di poter garantire ai loro cittadini un'autonomia e una specialità. E io, come ho spiegato ieri, credo che questa autonomia e questa specialità si possa estendere grazie al Friuli Venezia Giulia a tutta la provincia di Belluno. Quanto poi alle spinte all'autonomia da parte del Veneto e alle rivendicazioni del Presidente della regione confinante, la Saracchiani, anche qui, non fa sconti. Zai ha avuto la possibilità per, dunque questo è il suo secondo mandato, quindi ha avuto davvero tanti anni nei quali poteva ampliare l'autonomia del Veneto, già con gli articoli della Costituzione precedenti e anche, e ancora di più, con questa modifica del titolo quinto. Le regioni a statuto ordinario possono tutte chiedere competenze ed esercitarle in via autonoma. Non mi risulta che l'abbia mai fatto. Che dite? Per me. Per me. Per me.